Come se soffiassi Armonia cosmica attraverso Gianna a cura di Franco Lanari Mi chiamo Sauro e vi saluto Non so scrivere perché sono stato un contadino, ma il mezzo mi aiuta E' come se soffiassi quello che voglio dire Ecco, mi sono già abituato a questo mio modo di comunicare Ho trascorso tutta la mia lunga vita in campagna E le mie mani e la mia pelle erano molto callose e grosse e dure, come un animale Poi un giorno ho visto una luce all'orizzonte E ho capito che nell'universo qualcosa vibrava più forte E che io ero stato solo un animale che guardava in basso Si rotolava nel suo sterco Allora ho desiderato salire E da quel giorno mi sono sentito meno pesante Ora sono in quella luce e sto bene Ma ci sono ancora delle ombre che dovrò schiarire E' già un grande enorme balzo quello che ho fatto E ringrazio chi me lo ha fatto capire Non avrei mai pensato Grazie anche a voi In questo modo siete in contatto con me su questa luce Perché prima i miei contatti erano solo materiali Ora invece posso comunicare con voi Anche se non ho il corpo E questo è bello, è importante Grazie luce Ciao Ciao, ciao Sauro Grazie a tutti